Buongiorno, qualche tempo fa il mio amico e compagno di avventura o sventura, come dir si voglia, Mino Enriquez, vi propose di creare un inedito. In mezzo alle nostre varie cover, parodie e video del canale, ebbe questa idea, al che io ero un po' perplesso, perché cantanti non siamo cantanti, musicisti men che meno, di teoria musicale non ne capiamo una mazza, quindi rimasi interdetto per almeno 5 secondi, poi gli ho detto ma certo che lo facciamo, perché qua su questo canale non ci sono regole e si può sognare come e quanto si vuole. Siamo e non siamo riusciti a trovare un musicista, un compositore, ci potesse dare una mano, anzi avevamo trovato un bravo musicista, ma ha avuto dei problemi familiari e quant'altro, anzi gli auguriamo il meglio, però a un certo punto c'è il figlio di Mino, il piccolo grande Gioele Enriquez, bambino di 13 anni, che con la sua tastierina ci compone la base. Ed è così che a questo punto, per questa estate, è nato questo piccolo progettino che, considerate tutte queste premesse, comunque vada, sarà un successo, quindi su YouTube, canale Tony delle Tigre, per quest'estate, ricordatevi che c'è Summer 2024, non importa niente, grazie, ciao tigre!